Buongiorno ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube, oggi torniamo a parlare di FIFA 23 con il rilascio del trailer ufficiale del gameplay di FIFA 23, vi lascio il link qua per vedere il trailer completo vi parlo e vi spiego dei blocchi e gli outblock, quindi le novità in merito al gameplay e come sarà possibile sfruttarle per l'anno prossimo farò una traduzione della lingua inglese quindi per aiutarvi a scoprire tutte le novità in merito a queste funzioni difensive allora per prima cosa vi faccio un piccolo appunto, blocchi e autoblocchi, trattasi semplicemente della possibilità di sfruttare degli automatismi dell'intelligenza artificiale nella fase difensiva quindi magari la possibilità di sfruttare l'IA per recuperare un pallone mentre ti punta l'avversario infatti spesso e volentieri capitava di avere il cosiddetto raddoppio difensivo magari dove l'avversario che è in fase difensiva controllava un difensore e automaticamente veniva a pressarci a recuperare palla nella nostra fase offensiva un giocatore non controllato adesso vi metto qua sotto la descrizione in inglese degli aggiornamenti e vi faccio una traduzione vi spiego come saranno aggiornati, come saranno modificati i blocchi e autoblocchi in FIFA 23 allora partiamo dagli autoblock, quindi l'automatico, l'automatismo ci sarà solo ed esclusivamente qualora la distanza tra il difensore e l'attaccante è inferiore a un metro quindi qualora sia superiore a un metro non può essere sfruttata l'autoblock un blocco assistito che consiste nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale qualora stessimo controllando quel determinato difensore può essere utilizzato solo se la distanza tra l'attaccante e il difensore in questione è superiore a 1,4 metri da 1,8 metri in poi il blocco è completamente manuale e quindi dipenderà tutto dalle capacità dell'utente capacità vostre, capacità mie, capacità nostre nel scegliere il giusto tempismo nel scegliere la tipologia di contrasto da effettuare eccetera 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 quindi da 1,8 metri è 100% manuale detto ciò vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale youtube per avere tutte le news più importanti su fifa 23 conoscere metodologie di compravendita a partire da settembre per l'arrivo di foot 2023 lasciate un commento se avete dubbi, vorrete chiarimenti o vorrete aggiungere qualcosa di nuovo e non dimenticate di lasciare un like al video e supportarmi sfruttando tutti i link in descrizione grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima ciao